tanto che questo sport è famoso e bello si addormentano guardandolo toni rea dorme mentre la partita comincia ecco qua la signora sta per battere la palla ecco la palla va vicino al pallino e brava mentre toni rea ancora dorme toni sveglia la partita è cominciata lino col bastone in mano con bastone in mano toni rea va a vedere la partita si è svegliato